Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sui prodotti finiti allora, sapete che è un video che a me piace girare da quando ho aperto il canale quindi saranno anni che ogni tanto giro il video sui prodotti finiti ultimamente ne sto facendo più spesso proprio perché in realtà ho un sacchettino piuttosto piccolo anche perché non mi sembra il caso di occupare uno spazio assurdo per contenere scatole vuote quindi vi faccio la recensione di questi prodotti così passo allo smaltimento della raccolta differenziata e ve ne ho parlato e poi ne parleremo più avanti di nuovi prodotti provati ne sto testando tantissimo, quindi è stato veramente difficile riuscire a finire qualcosa ma io ci tengo proprio perché cerco di non comprare prima di finire nuove cose anche perché i prodotti poi vanno a male e valgono dei soldi quindi ecco, e non ha neanche senso spendere tanto in un buon prodotto se poi lo facciamo scadere o comunque facciamo scadere la data indicata nel PAO e quindi mi raccomando, finiamo quello che abbiamo a casa allora, prima cosa che ho finito, rotta perché mi è caduto sotto la doccia è questo bagnoschiuma neutro, bagnoschiuma profumo di talco della Carrefour con aloe vera gel e questo qua l'ho preso proprio perché conteneva aloe vera gel e volevo provarlo questa qua è appunto il neutro bagnoschiuma allora, io da sempre preferisco il bagnoschiuma con appunto di citura neutro o comunque neutri perché le profumazioni a me fanno uscire le bollicine dopo la doccia la mia pelle proprio non... soprattutto in estate col caldo ma anche in inverno non tollera profumazioni particolari e quindi ho deciso di provare questo che conteneva aloe vera quindi che è altamente limitivo era enorme quindi non finiva mai e allora, è un buon bagnoschiuma da 700 ml e durava 12 mesi quindi volendo avrei potuto continuare ad utilizzarlo ma diciamo che dopo un po' non ne potevo più anche perché diciamo che poi in vacanza ho dovuto portare anche quelli più piccoli perché questo occupava tutta la valigia e allora, sì, ve lo consiglio se lo trovate in sconto se andate al Carrefour, provatelo è un bagnoschiuma buono, ecco, senza pretese però penso che per gli ml che contiene comunque costi poco quindi provatelo se vi va se avete una pelle delicata va bene ne sento ancora? si è riprodotta ancora? no, basta ok, questo qui poi ho finito l'ennesimo colluttore della linea Smart di S-Bunga con estratto di salda 500 ml sapete che questo qua mi piaceva molto quando andavo all'S-Bunga non ci sono più andata perché per appunto i problemi dell'ultimo periodo l'S-Bunga è un pochino lontana ed è molto frequentata quindi preferisco andare in supermercati più piccolini la mattina presto in modo tale da non incontrare tanta gente però sì, questi qua mi piacevano molto adesso sto usando un altro colluttore che si trova al di più che un'altra catena di discount come può essere la Lidl o il Penny non so che cosa ci sia nella vostra zona e mi sta piacendo molto di più di questo della linea dell'S-Bunga però comunque quando e se riuscirò a tornare a fare la spesa l'S-Bunga sicuramente prenderò questo qui perché è buono e della linea Smart e mi piace finita ieri allora, burro corpo riparatore pappa reale, miele, tropoli, corpo e mani questo qua l'ho portato anche in vacanza mi piace molto la profusione anche se nelle ultime giornate che erano veramente calde mi dava quasi fastidio ma non per colpa della profumazione che è buonissima ma proprio per il caldo non so come spiegare che ho notato che questo caldo tutte le profumazioni di qualsiasi crema o profumo me le sta accentuando non so se è una cosa mia e quindi quando fa caldo preferisco fragranze più leggere e meno corpose comunque non unge, non appiccica Garnier Ultra Dolce Corpo Burro Riparatore di tesori di miere allora l'ho utilizzato su di me ma anche sul mio ragazzo l'abbiamo portato anche in vacanza idrata benissimo la pelle io l'utilizzavo proprio adesso sto utilizzando una crema della Garnier ma più leggere infatti l'utilizzavo proprio dopo la doccia mettevo i miei oli faccio asciugare gli oli e poi mettevo la crema perché è noto che la crema più gli oli dà un nutrimento maggiore quindi mi piace utilizzarli tutti e due però ho sostituito la fase del burro perché questo qua era un burro corpo che ho utilizzato diciamo questa fase per tutto l'inverno con una crema leggera perché adesso è estate e fa caldo anche se in realtà secondo me potrebbe essere una fragranza anche estiva però nei giorni proprio di caldo caldo cerco sempre comunque di trattare la pelle dopo la doccia ma con una crema un pochino più leggera però sicuramente se la dovessi ritrovare più avanti più avanti intendo verso settembre perché speriamo che agosto sia bello caldo visto che ha sempre piovuto qui però insomma prima o poi tornerà anche il fresco quando tornerà il fresco posso provare o questo burro o provare altre fragranze sempre di questa linea altre profumazioni perché mi è piaciuta molto però ieri che faceva veramente caldo che era l'ultima applicazione non so perché mi è sembrato più non corposa più la profumazione troppo per il caldo non so come spiegarvelo poi ho finito di Pixi quanto tempo fa l'ho finito questo? non me lo ricordo della linea la vitamina C ho finito il cleanser il come si chiama? non è latte detergente crema detergente struccante viso con i fiori di arancio con l'acqua di fiori di arancio mi è piaciuta da matti questa acqua micellare che poi non è un'acqua micellare è uno struccante viso spray liquido ecco qua forse c'è ancora qualcosa perché ho schiacciato vabbè fa niente mi è piaciuto tantissimo diciamo che io di Pixi se dovesse scegliere i miei prodotti in assoluto spesso me lo chiedete perché li mostro spesso e ne ho tantissimi io impazzisco quindi non riesco a fare a meno per i loro cleanser sia quelli così che quelli in crema per i patch per gli occhi per alcuni tipi di ombretto ecco questo qua ovviamente l'ho finito perché diciamo che è quello che utilizzo più spesso quando mi tocco mi è piaciuto tantissimo dunque durava 12 mesi ma io l'ho utilizzato prima l'ho finito almeno un mese fa no anche di più mi è piaciuto moltissimo ecco quindi questo sì se lo trovate soprattutto per l'estate che quindi anche personalmente quelli sruccanti cremosi e corposi mi danno veramente tanto tanto fastidio questo qui che è liquido invece è un piacere struccarsi perché leva tutto senza particolare difficoltà ma soprattutto non lascia la pelle con quella patina oleosa che a me è inestate proprio da fastidio ho finito anche di Garnier Skin Active la BB Cream Original 5 in 1 dei nostri riser nella colorazione medium allora dura 12 mesi l'avevo iniziata l'anno scorso però ovviamente la colorazione media per me risultava un po' troppo scura dopo settembre in realtà io mi sono abbronzata non so se si vede e quindi l'ho finita quest'anno quando ho iniziato a non andrò a abbronzarmi perché io non amo stare sotto al sole ma è con l'auto abbronzante l'ho iniziata a mettere quando avevo l'auto abbronzante e poi facendo le passeggiate anche con la protezione solare un po' di colorito l'ho preso quindi l'ho finita così la profumazione era veramente gradevole niente è finita si era carina da mettere da avere un trucco leggero perché comunque è una BB cream non copriva imperfezioni enormi ecco però ha dato un colorito un attimo più sveglio del mio di adesso visto che sono struccata ma fa troppo caldo e poi io finalmente oggi pomeriggio vado in piscina e quindi e quindi non mi trucco per andare in piscina comunque mi è piaciuta molto l'ho finita in vacanza prima di partire ne ho finito un altro non lo fanno più Calvin Klein C1 2 era lo de toilette spray durava 36 mesi era 50 ml era carinissima la boccetta perché appunto era la boccetta dell'acqua aveva una fragranza che secondo me era unisex bellissima delicatissima estiva con quella punta di spritz non so spiegarvi i profumi sono difficili a spiegare a me in estate non mi piacciono i profumi stucchevoli quelli dolciastri a me mi piacciono quelli sprint e quindi tutti mi facevano i complimenti come con l'altro che vi sto per mostrare che è finito mi mancherai ma visto che sei fuori produzione dovrò per forza sostituirti e quindi ti saluto oh mio dio ci sono dei peli di penni qui in mezzo allora ho finito le capsule di vitamina E che utilizzavo nei miei rimedi di bellezza ma adesso ho comprato direttamente l'olio di germe di grano che sapete che contiene tantissima vitamina E però ho finito le mie amate capsule che avrete visto in tantissimi video ricette anche lui è finito ma già sostituito con un altro brand materia prima l'uso cosmetico oggi di rosa moscheta ottenuto per spremitura freddo della saponaria questo qua era comodo se riesco a girarlo non riesco che ad aprirlo era comodo perché aveva il dosatore che è vuoto ovviamente non volevo mangiarlo ma non ce n'è proprio più volevo dirvi di cosa sa ma di niente perché non ce n'è più mi è piaciuto da matti però ne ho trovato uno un pochino più grande può essere da 30 ml però la saponaria in generale a me per queste cose piace molto e costa anche poco sinceramente quindi se dovete iniziare a fare cosmetici a casa o a prendere qualche ingrediente da mixare alle vostre creme o i vostri oli vi consiglio la saponaria sicuramente finita la crema piedi è lo sitan era un campioncino crema piedi per piedi secchi al karité ah si ora me lo ricordo adoro no la crema piedi in faccia no però aveva questa fragranza di karité molto carina idratava anche se è durata poco ovviamente perché il mio piede non è piccolo così si allora sincero posso essere sincera si è una crema idratante piedi che funziona forse però non per piedi secchi nel senso che non mi ricordo di aver visto un wow quando l'applicavo a livello di idratazione io di solito i piedi secchissimi quindi non la ricomprerò ma solo per questo motivo però è una buona crema piedi ecco non è che è normale come quelle del supermercato però secondo me quindi ora lo sitan costa parecchio e quindi non so se comprerei una crema piedi dello sitan però comunque normale cioè non so che dirvi normale né fantasticissima né fantastica né anche pessima buona crema piedi normale poi ho finito il tetri oil bio olio essenziale 100% puro di appunto titri quindi albero del tè che utilizzavo sui miei amati brufoletti adesso in estate come vi dicevo non amo le fragranze e neanche quella del titri che è troppo forte per me e quindi utilizzo l'aloe vera sui brufoli al posto del t3 oil quindi lo ricomprerò ma in inverno perché adoro il t3 oil però adoro anche l'aloe vera in estate perché l'aloe vera ovviamente essendo appunto un gel è più piacevole ultima cosa moschino fanni finito buonissimo un bacione ciao ciao